Oggi nella giornata della terra vogliamo sensibilizzare tutti voi al problema della defolestazione. Iniziamo! Che cosa sta succedendo in Amazzonia? In Amazzonia stanno distorscando e incendiando i loro territori. Perché stanno incendiando le foreste? Perché stanno facendo spazio alle loro coltivazioni e loro allevamenti. Ogni anno in Europa e negli Stati Uniti vengono portate milioni di tonnellate di carne e di soia portate dal Brasile. Che cosa ha chiesto l'associazione Survivorale ai cittadini europei? Ha chiesto di non acquistare prodotti brasiliani. Ciao! Molte tonnellate della soia importate ogni anno dall'Europa proviene dal Brasile. Molte volte per le coltivazioni vengono abbattuti moltissimi alberi della foresta amazzonica e del cervello. Negli ultimi vent'anni la produzione è aumentata moltissimo perché serve per dare da mangiare agli animali che producono carne, formaggi e latte che viene venduto in tutto il mondo. Boscati tre posti fondamentali e uno è il polmone della terra, la foresta amazzonica. Continuando così si estinguano alcune specie di animali. Ovviamente ci sono brutte conseguenze come per esempio danno sul clima e sette specie animali che arrivano nelle foreste. E infine mancanza di esigeno. A causa del disfoscamento i più di estrelli sono scappati e si sono rifugiati nelle città dei cinesi. Così hanno trasmesso il covid al pangolino che a sua volta trasmesso all'uomo. Il coronavirus si è diffuso in tutto il mondo. Da alla redazione del sabì è tutto. Buon... Ehi!